Mi chiamo Ugo De Santis, sono autore del romanzo Stagioni di Passioni. È un romanzo che è piaciuto moltissimo e già è in edizione la seconda pubblicazione. La continuazione di quella precedente che riguarda sia gli eventi penitenziari sia poi il reinserimento sociale all'esterno tramite associazioni di volontariato e enti istituzionali. Qui abbiamo degli amici che hanno letto il romanzo, vediamo un po' cosa ne pensano, vediamo Raffaele Caruso. Io penso che questo libro, lo consiglio a tutti, rispecchia la realtà nelle cacce del nostro paese. Poi non lo so, qualche altro amico vorrebbe dire qualche cosa. Passo di nuovo la parola a Ugo De Santis. Effettivamente rispecchia la realtà italiana. Volevo dire anche un'altra cosa, ultimamente sono state erogate otto ore di celle aperte negli istituti con la nuova legge. Ma effettivamente i detenuti già ne avevano sei. Il ministro Cancellieri ha parlato anche di lavoro, sarebbero stati dati centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma effettivamente se la struttura non consente, io non vedo questa migliaia di posti di lavoro, come si possa accontentare la popolazione detenuta. Se non si va ad agire sulla struttura. La struttura